Buongiorno a tutti, bentrovati alla video lezione sui sistemi operativi. Oggi parleremo del sistema operativo in generale e poi applicheremo alcune procedure al sistema Windows 10, che è quello più utilizzato in ambito, diciamo, domettico e aziendale. Il sistema operativo si definisce come un insieme di programmi che permettono all'utente di interagire con il calcolatore, al calcolatore di dialogare con l'utente in una lingua comprensibile dall'utente e che permette la gestione e l'ottimizzazione, diciamo, delle risorse hardware e software del nostro sistema. In particolar modo, la classificazione di sistema operativo avviene in base al numero di programmi che riesce ad eseguire contemporaneamente, in base alle politiche di gestione delle risorse hardware e anche in base agli ambiti di utilizzo. applicazioni per desktop, per uso domettico aziendale, applicazioni tipo server per, diciamo, mettere a disposizione di altri calcolatori di servizi anche in rete, come per esempio siti internet e servizi di posto elettronico, applicazioni per i mobile, palmari, smartphone e tablet, che permettono, diciamo, agli utilizzatori di utilizzare in mobilità, in maniera trasparente, tutte le applicazioni disponibili per quel particolare sistema operativo. e in particolar modo, sistema operativi, diciamo, hanno una classificazione, la classificazione è legata anche al numero dei programmi che loro riescono ad eseguire simultaneamente o almeno l'utente, diciamo, ha l'impressione che essi vengono eseguiti contemporaneamente. Prima di sistema operativi, siamo operativi in monoprogrammazione, ovvero, erano in grado di esibire un solo programma alla volta e quindi, un esempio, diciamo, proprio di questo sistema operativo, è il sistema operativo MS-DOS, che poi, diciamo, ha dato a Windows tutta la parte riguardo alla sua scelta di comandi, ampiamente è stessa. Poi ci sono i sistemi operativi multiprogrammati, i quali sistemi operativi multiprogrammati permettono un'esecuzione di più programmi contemporaneamente sull'hardware, ma si basano essenzialmente su due tipologie, diciamo, di multiprogrammazione, una basata nel parallelismo reale, quindi in un ambito multiprocessorio, quindi ci sono più programmi che in contemporanea vengono eseguiti sul calcolatore, l'altra invece è legata a un parallelismo virtuale, ovvero il sistema operativo esegue più attività contemporaneamente, sfruttando le pause di esecuzione da parte dei programmi che ne fanno, appunto, diciamo, rigetta di operazioni che non coinvolgono il processore. Poi ci sono i sistemi operativi in timesharing, i quali sistemi operativi in timesharing assegnano un quanto temporale, un intervallo di tempo per l'esecuzione di ogni programma sulla CPU. Voglio ricordare a tutti che un programma in esecuzione viene chiamato progetto quando viene caricato in memoria e quindi la sua funzione è proprio quella di andare in esecuzione sul processore. Il programma, diciamo, in laboratorio in timesharing permette quindi di distribuire la risulta processore a più processi che ne fanno rigetta di esecuzione. Che cosa succede durante l'esecuzione di un progetto? Diciamo sinteticamente il progetto ha un quanto demorale per potersi eseguire e terminare, se non termina il processore lo sospende e passa all'esecuzione dell'altro progetto che sta in attesa di essere eseguito. E questo verrà poi chiaramente approfondito in una lezione diciamo successiva. Però sostanzialmente questo concetto permette di distribuire in maniera equa, diciamo, anche se poi ci sono degli svantaggi, ne parleremo, rispetto, diciamo, alla risorsa processore ai programmi che ne fanno rigetta di esecuzione. Bene, allora, il sistema operativo è poi un altro tipo di, diciamo, di sistema operativo, il sistema operativo in real time dove il tempo di risposta deve essere il più piccolo possibile perché vengono utilizzate in applicazione in ambito militare aeronautico dove il tempo di risposta dell'applicazione deve essere immediato. Anche una piccola differenza di tempo può essere, diciamo, a volte anche pericolosa. Pensiamo, per esempio, alla gestione, diciamo, di una situazione di emergenza dove un secondo in più, un secondo in meno della risposta che un sistema ricalcola lo fornisce può essere determinante per la riuscita o meno di una determinata operazione. Bene, i sistemi operativi esistenti sono di vario tipo. Siamo insieme alla famiglia Windows che vengono applicati, diciamo, a tutte le tipologie di calcolatori, dai desktop ai server ai palmari o ai tablet ai smartphone. Poi abbiamo i sistemi operativi open source, ma questo è stato inquadrato in questa categoria perché, comunque, hanno gli unit lights. infatti, la Apple qualche anno fa utilizzava un sistema Mac OS X Darwin che era proprio derivato da un codice di sistema operativo Linux e quindi, tutt'oggi, rimane basato su kernel Linux, cioè il sistema operativo Linux. Anche se l'interfaccia del proprietario è stata realizzata dalla Apple, comunque, diciamo, viene inquadrata in un sistema operativo di tipo Yuric-like. L'unico problema è che può essere installato solo sulle macchine di tipo Mac. Qua è il NX, un sistema in real-time per l'applicazione serve per questa applicazione Mission Critical di cui aveva parlato prima. E poi abbiamo i sistemi operativi per il mobile, ormai diffuso già da una decina d'anni e più. Sono Android, iOS o Windows Phone per l'applicazione, diciamo, su dispositivi quali smartphone e tablet. Bene, il sistema operativo lo possiamo vedere come un insieme di programmi, ma viene diviso in modulo. Abbiamo in quattro moduli principali, sono il gestore dei processori che gestisce l'utilizzo della risorsa processore da parte dell'assegnazione di questa risorsa ai processi che ne fanno richiesta per essere, diciamo, inserita all'interno della memoria RAM. Il modulo di gestione delle veriferiche consente di permettere il dialogo con gli dispositivi di input out e gestire anche la memorizzazione delle informazioni dei dispositivi di memoria di massa insieme con il modulo di gestione dell'informazione o file system che si occupa della, diciamo, memorizzazione fisica dell'informazione sul posto di memoria di massa. Ovviamente tutte queste funzionalità sono trasparenti all'utente in quanto l'utente utilizza praticamente, diciamo, delle funzionalità di tipo astratto che poi andremo a vedere fra un momento. Un'altra parte importante del sistema operativo è il gestore delle interruzioni. Il gestore delle interruzioni è un, diciamo, un modulo aggiuntivo che viene inserita all'interno del modulo di gestione dei processi che appunto si occupa i gesti delle interruzioni. Che cos'è l'interruzione? L'interruzione è un meccanismo che si avverte il sistema di calcolo che all'interno del sistema si è verificato un evento al quale il sistema operativo insieme al processore deve dare risposta. Tipicamente un malfunzionamento hardware oppure la fine di un quanto temporale, un'elaborazione di time sharing, un'interruzione di programma per un malfunzionamento oppure un'interruzione di un programma per un'operazione di input out, una varia tipologia di interruzione. Nel momento in cui arriva l'interruzione il processore mediano sistema operativo la deve gestire e quindi questo modulo, diciamo, entra a far parte in maniera integrata nell'insieme dei programmi che costituiscono il sistema operativo. Alcune funzionalità aggiuntive del sistema operativo moderno sono la possibilità della multiutente di essere utilizzata da sui utenti, diciamo contemporaneamente, anzi attraverso l'utilizzo della rete, funzionalità di rete che permettono, diciamo, di creare attraverso questi sistemi operativi delle reti locali e gli permettono l'accesso all'internet e le sue risorse, l'accessibilità e l'utilizabilità che permette appunto di fruire del sistema operativo anche da parte di persone che hanno difficoltà, disabilità, ma anche da parte di persone normodotate con procedure semplificate. E poi non poteva mancare oggi all'interno di ogni sistema operativo moderno la presenza di una grossa parte della sicurezza, cioè per la gestione sia della privacy degli utenti utenti all'interno del sistema di calcolo, ma sia anche funzionalità di base come un sistema di antivirus, un sistema di firewall integrato personale per la gestione, diciamo, degli accessi alle risorse internet sia dall'interno della rete che dall'esterno, quindi insomma una serie di funzionalità molto avanzate, tutte ormai, diciamo, orientate anche alla gestione della privacy degli utenti utenti come peraltro, diciamo, ormai stabilito a livello di normativa sia europea che internazionale. Le funzionalità, diciamo, opzionali del sistema operativo è quelle di possedere chiaramente programmi per lo sviluppo software come compilatori, link, assemblatore, oppure possedere programmi la funzione dei servizi messi a disposizione dalla rete internet e anche programmi di utilità, per esempio per gettire, diciamo, i disk, per i programmi per la compressione, la cartografia, il backup e il ripriso dei dati. Voglio solo un attimo parlare della differenza fra compilatore, editor, link ed assemblatore, giusto perché molto spesso ci troviamo ad utilizzare ambienti di sviluppo. Il compilatore, diciamo, sostanzialmente è uno strumento software che permette di convertire un codice sorgente scritto in un linguaggio di programmazione ad alto livello uguale C, C++, Java, in un codice oggetto. Questo codice oggetto viene dato in pass praticamente al linker che lo assembla insieme alle librerie necessarie per la creazione di un file binario ed un file eseguibile. Poi abbiamo degli altri strumenti, l'editor permette di scrivere un codice sorgente ma anche di scrivere un file di comandi per il sistema operativo qualunque. L'assemblatore, diciamo, invece è un software che permette di eseguire un programma linguaggio macchina e di eventualmente farne anche il debug, ovvero un'esecuzione passo passo per vedere che cosa succede durante l'esecuzione di questo microprogramma. L'assemblatore normalmente è un software che interpreta l'istruzione macchina del processore e quindi molto orientato all'albero della macchina. Abbiamo quindi, diciamo, superato questa prima parte teorica e adesso cominciamo a dare alcune definizioni di file e cartella. Il file è una raccolta di informazioni, il sistema Windows viene nomenclato, diciamo, la nomenclatura dei file con un nome e un'estensione separato da un punto, che il nome può essere anche di 256 caratteri. Vi voglio ricordare che il sistema Windows non è case sensitive, quindi non è estensibile alle variazioni di maiuscolo e minuscolo, mentre l'altro sistema operativo come sistema Linux lo è. L'estensione in genere di 3 caratteri è bene inserirla, non è obbligatorio, rappresenta, diciamo, la tipologia di file e quindi, meno anche l'applicazione eventualmente ha generato il file. Ovviamente il sistema operativo, insieme con i software applicativi, diciamo, possiedono numerosi migliaia, decine di migliaia di file e quindi è opportuno organizzare i file, diciamo, in cartelle, dove la cartella rappresenta un contenitore vuoto che permette, diciamo, all'utente di andare a effettuare una classificazione e per semplificarne anche l'operazione di ricerca. Dopodiché il sistema operativo può essere utilizzato, soprattutto con i moderni, ormai con le interfacce grafiche che permettono l'utilizzo del mouse, quali dispositivi di input che attraverso un fondatore permettono di cliccare sulle icone, sulle finestre che sono altri elementi grafici, le barre del menu. Ovviamente le interfacce grafiche, i grafici di user interface, si differenziano in relazione, diciamo, a quelle che sono le peculiarità del sistema operativo. Ogni sistema operativo ha un'interfaccia grafica in genere differente. Come prima operazione per il sistema operativo Windows utilizziamo, quindi, diciamo, comandi per creare una cartella. Possiamo utilizzare sia i tasti rapidi, cioè combinazioni di tasti che permettono di fare le azioni velocemente, oppure il mouse. In questo caso, io riduco un attimo l'icona alla presentazione e faccio vedere come crea una cartella. Mi posiziono in un punto del desktop, faccio tasto destro del mouse, nuova cartella e vado a digitare il nome della cartella, per esempio, che voglio assegnare, esercizio e confermare con il video. Con il doppio clic io potrò aprire la mia cartella e potrò utilizzarla. E questo come prima operazione. L'apertura l'abbiamo visto con il clic, oppure, praticamente, posso effettuare questa combinazione di tasti rapidi e andare a cliccare con il tasto invio, praticamente, per aprire la mia cartella. Perfetto. E questo diciamo quando riguarda la parte della gestione. Poi, chiaramente, abbiamo anche la possibilità di rinominare la cartella, possiamo farlo in due modi, sostanzialmente. Vediamo il primo modo, il primo modo per rinominare la cartella è quello di andarci sopra, tasto destro, rinomina, scelgo la voce, rinomina e cambio il nome. Lo diamo, esercizio 1. E compiemmo con lui. Oppure, utilizzare le combinazioni rapide, temporanea e P10, per utilizzare, praticamente, diciamo, questa tipologia di sintassi con la tastiera. Poi, se lo voglio rinominare, possiamo anche cliccare su per premere tasto F2 e esce immediatamente, semplicato di scrivere. Bene. Poi, chiaramente, perché era un file detto semplice, io posso aprire il menu di avvio, andare in accessori e chiamare il blocco note. Il blocco note, quindi, facciamo il menu Start, accessori di Windows e troviamo il nostro blocco note. Spettiamo che si apre e possiamo utilizzare, appunto, il nostro file detto. Riproviamo ad aprire. Eccolo qua. E possiamo scrivere una qualunque cosa, testo di prova, e salvarlo, ad esempio, con la voce file, salva con nome, per da segnale una volta il nome. E salvarlo all'interno della cartella che abbiamo precedentemente creato, che siamo esercizio 1, con testo 3. Ci sono anche delle altre possibilità, quindi questo è il menu del blocco note, l'abbiamo visto adesso. È possibile anche, praticamente, salvare, diciamo, salvare un file in un altro programma come il WordPad, e quindi ci si presenta questo menu. Il WordPad è un semplice programma di video scrittura per chi non dispone di Microsoft Office. Poi posso copiare e spostare i file, chiaramente questo lo posso fare sia immediatamente con il sistema Windows che all'interno della scelta dei comandi. Allora, per esempio, se io potessi spostare un file che si trova nella mia cartella, vado veramente sul mio file, faccio CTRL-C, poi vado a creare una nuova cartella qui dentro, che siamo, ad esempio, backup, per dire che è una copia di sicurezza, per esempio, e vado a incollare il mio file con CTRL-V. Ovviamente queste azioni le posso fare anche attraverso il menu, per esempio, nel menu Home è possibile avere sia il comando copia, il comando incolla, che il comando taglia. E quindi questo rappresenta un modo per poter gestire lo spostamento dei file. Andiamo a questo punto a farlo da tastiera. Windows consente anche di utilizzare l'interfaccia di esplorare le risorse, utilizzare addirittura il menu di avvio per cercare, praticamente, un file all'interno del mio sistema. E vediamo subito come fare. Allora io, per esempio, ricordo che il mio file si chiama testo e lui subito mi ha visualizzato il file che io ho creato poc'anzi. Posso fare tasto destro, apri percorso file e vado ad aprire il mio file, la posizione dove si trova il mio file e quindi ci posso fare tutte le azioni che voglio. Posso modificarlo, posso salvarlo, posso cancellarlo. Per cancellarlo posso fare in due modi differenti. O utilizzo praticamente un tasto rapido oppure tasto destro, elimina, elimina che mi viene poi spostato chiaramente all'interno del cettino dove io poi in qualunque momento lo posso andare a ripristinare. Se voglio annullare la modifica che ho fatto, vado chiaramente con un tasto rapido, ctrl-z, ctrl-z e annullo la modifica che ho fatto al mio file. Andando avanti al nostro discorso, vediamo che però noi come utilizzatori di sistema dobbiamo utilizzare i comandi della MS-DOT, cioè la CLI, il prompt dei comandi. Il sistema operativo Windows in qualunque versione ha ereditato la nomenclatura del sistema DOT dove ogni unità di memoria di matta viene identificato da una lettera. L'abito dei punti non si utilizza più perché chiaramente rappresenta l'unità floppy disk che non viene utilizzata più, non esiste più, diciamo è molto vecchia. Mentre le altre lettere successive vengono utilizzate, per esempio per il primo, il secondo, il terzo hard disk disponibile, anzi se sono frammentati. E' importante ricordarsi che ogni disco ha una cartella principale che viene indicata con lo slash. Come posso aprire il prompt dei comandi o attraverso programmi accessori prompt dei comandi, diciamo, oppure semplicemente all'interno della cartella di scrittura io digito cmd e si apre il prompt dei comandi. Che cosa visualizza? In questo caso lui sta appuntando alla cartella c due punti barra inversa user corso che mi sta dicendo che l'unità di memorizzazione c due punti, cioè il mio disco fisso. Poi c'è una sottocartella che si chiama user e una sottocartella che si chiama corso. Quello che vi voglio far notare, se noi andiamo adesso ad aprire la nostra icona computer che dovrebbe essere sul nostro desktop, anzi no, apriamo esplora risorse, andiamo sull'icona computer, vediamo questo pc, vediamo che qui ci sono vari dispositivi, il primo disco rigido è stato indicato con C due punti, poi c'è un primo disco removibile che si chiama C due punti che è un'unità di memorizzazione tipo scheda SD, perché non è presente un lettore ottico e poi una lettera che assegna unità di rete 0 a due punti, questa lettera normalmente viene assegnata a mano mediante il prompt dei comandi oppure attraverso l'utilità di connessione di risorse di rete di Windows. Però normalmente le prime lettere sono identificate da dispositivi presenti sul sistema o collegati direttamente o attraverso l'interfaccia hardware interna o attraverso l'interfaccia hardware esterna, per esempio Angela Pernet USB verrebbe identificata con la lettera E due punti. A questo punto io per esempio avendo queste varie unità come faccio a trasportarmi? Allora per esempio se voglio andare nella D faccio D due punti, se voglio andare nella Z faccio Z due punti, per tornare sul mio dispositivo fisso faccio C due punti e lui torna sul prompt, questo mi sta dicendo che il percorso corrente è questo qui. Allora che cosa significa questo? Significa che io se voglio realizzare un comando che coinvolge il mio percorso corrente, non c'è bisogno di utilizzare questa prima parte del percorso perché esso è corrente. Vediamo nell'ordine i vari comandi che possiamo utilizzare, abbiamo quindi letto da flop sono sempre la B due punti, la lettera C è successiva per l'unità o le partizioni del disco fit e così via tutte le regole di cui abbiamo pocanti menzionato. I discompronovibili prendono la prima lettera libera dopo il lettore ottico, perciò la mia schedina SD ha preso la D due punti perché dopo la C come unità fissa non c'era il lettore ottico ma c'era direttamente la schedina SD. Benissimo, il prompt dei comandi quindi rappresenta un'estensione della MS-DOS e dove praticamente io posso utilizzare alcuni comandi, ad esempio il comando CLS serve per cancellare lo schermo. Ogni comando è rappresentato da una sintassi particolare, se io faccio per esempio il comando DIR, il comando DIR mi consente di visualizzare l'enco dei file delle cartelle presenti nel mio percorso attuale. E mi dà tutta una serie di indicazioni, questi file qua sono, questi sono praticamente cartelle diciamo nascotte con il punto, perché è un'estensione del punto di utilizzo, queste sono cartelle, sono indicazioni di NIR e quindi questa diciamo cartella contiene solo sotto cartelle. Dopodiché se voglio vedere altre informazioni, vedo per esempio la data di creazione della cartella, la data di l'ora di creazione. Andiamo all'interno di un file, per esempio faccio cd document, perché sto facendo cd document, perché la prima parte del percorso, user recurso e corrente, faccio DIR e otterrò all'interno che ci stanno delle altre informazioni, diciamo degli altri file. Se invece da document voglio andare a desktop, allora mi ricordo che il desktop è una cartella di livello superiore, faccio cd punto punto barra inversa desktop e torno al mio desktop. Facciamo DIR, anche qui, e ottengo praticamente le informazioni del mio, praticamente, desktop. Dopodiché se io voglio entrare in una cartella, per esempio in una cartella C++, cd C++ per usarmi. Posso fare anche il comando DIR barra O, per ordinare in ordine, diciamo, alfabetico. Se invece volessi tornare alla cartella principale del mio disco C, faccio cd barra inversa. Andiamo a fare DIR barra O, che è un'opzione, e mi dice praticamente tutti i file di sotto cartello ordinati in ordine alfabetico. Il comando, invece, DIR barra W, visualizza la notazione sintetica, dove ogni cartella è indicata praticamente fra parentesi quadrato. Andiamo ancora adesso, come facciamo adesso, per esempio, ad andare sulla scrivania, sul mio desktop, devo fare cd, users, o metto la barra inversa perché è corrente, cd, dunque, il nome del mio utente corso, desktop. E ottengo la mia cartella desktop. Vediamo se c'è la nostra cartella esercizio, vado cd esercizio underscore 1 e ottengo che entro nella mia cartella dove troverò il mio file di testo. Ora, ovviamente, se io voglio entrare e vedere questo file da un'altra cartella che proponiamo di trovarsi in un'età zeta, come faccio a vedere il contenuto del file tetto.dxt, stando in un'altra cartella, devo specificare tutto il percorso. Allora, il comando per visualizzare un file in formato tetto è type. Type prevede anche l'utilizzo, diciamo, del percorso. In questo caso il percorso è attorno, quindi devo scrivere tutto, users, corso, desktop, poi devo mettere esercizio underscore 1, poi devo mettere il nome del file, il nome del file con la sua attenzione test.dxt. Faccio invio e viene scritto il mio file. Quando io ritornerò sulla c2 punti, tornerò un'altra volta al mio percorso precedente. Per tornare indietro di una cartella faccio cd punto punto. Se ad esempio volete creare un'altra cartella, potrei utilizzare il comando md nome cartello percorso esercizio underscore 2. E il sistema mi risponde praticamente che è tutto ok, se no mi darebbe un errore se io avessi sbagliato a digitare il comando. A questo punto entro in il cd esercizio 2 e mi accorgo che la mia cartella è vuota. E quindi ho creato anche, diciamo, una cartella. Vediamo quindi che abbiamo visto alcuni di questi comandi. Innanzitutto stiamo definendo la differenza tra percorso relativo e percorso assoluto. Percorso assoluto bisogna indicare tutte le cartelle partendo dall'unità di memorizzazione di origine. Percorso relativo invece basta indicare il percorso separato dal backslash intermedi per quanto riguarda, diciamo, un percorso legato a un percorso appunto già presente nel mio prompt dei comandi. Allora, facciamo un esempio. Immaginiamo adesso di voler andare a creare un'altra cartella che chiediamo md testi. E abbiamo creato quest'altra cartella. Adesso voglio creare all'interno di questa cartella un altro file di testi. Posso lanciare anche il comando notepad che si chiama blocco nota, linea di comando, notepad. La mia cartella si chiama, quella che ho creato poc'anti, si chiama testi. Testi e diciamo un altro documento testo1.txt. Si apre il blocco nota e mi dà un messaggio e io scrivo testo di prova 2. Faccio un salvataggio, viene salvato il file e viene giusto. A questo punto faccio dir e mi trovo, anzi praticamente all'interno della cartella testi, facendo una cartella testi, mi lo fa dir testi e mi visualizza il file testo1 che io ho appena creato. E quindi stiamo vedendo alcuni comandi che utilizzano il percorso assoluto e il percorso relativo. Quindi il doc si impara soprattutto per realizzare anche comandi automatici che possono essere fatti con i file .bat, che lo vediamo fra un attimo. Ora i comandi per la gestione delle cartelle, abbiamo detto quindi md percorso, cd percorso sono i comandi per la creazione e l'altro per cambiare la cartella. Il comando di percorso opzioni mi permette di visualizzare l'elenco dei file all'interno di una cartella. Le opzioni più utilizzate sono chiaramente la slash p per paginare l'elenco, che è molto ampio, non va in una pagina, doppia boom per in una colonna o per ordinare in ordine diciamo alfabetico. Dopodiché alcuni comandi che abbiamo fatto, ad esempio c'è un altro comando rd per cancellare la cartella, ma la cartella deve essere vuota, facciamo un esempio. Se io voglio cancellare rd, vediamo il nome della cartella, dir tetti, rd tetti, chiaramente la diretta non è vuota, quindi io dovrei cancellare il file all'interno della cartella. Il comando rd agisce solo se la cartella è vuota, va bene? Quindi sostanzialmente qui c'è un altro aspetto importante. L'elenco dei comandi dei file l'abbiamo visto nel comando dir, Comandi per la gestione dei file. Se io voglio cancellare un file, posso utilizzare il comando del specificante del percorso, e il file o il gruppo di file con il carattere jolly atterisco, dove l'atterisco indica chiaramente qualunque stringa presente all'interno del nome. Se invece io utilizzo l'ultimo comando, quello che abbiamo menzionato nella parte D, io cancello tutti i file che andranno in attenzione. Se invece voglio cancellare un solo file, posso utilizzare il comando, praticamente, specificando il nome del file completamente. Facciamone tre. Io so che all'interno della mia cartella, diciamo, tetti, c'è tetto 1, txtt. Allora, io per cancellarlo posso fare, in questo modo, del tetti, slash tetti 1, punto txtt. Ovviamente, io ho sbagliato il percorso perché la mia cartella va bene, ma il file si chiama tetto 1, e quindi, informandomi, risponde che è stato eseguito. Fate attenzione, però, perché non c'è nessuna possibilità di tornare indietro, almeno, diciamo, con gli strumenti del sistema operativo, diciamo, tradizionale. Adesso, vediamo un attimo, invece, di tornare alla cartella esercizio 1. Allora, io faccio cd punto punto slash esercizio 1, e fare in esercizio 1, dove c'ho il mio file tetto.txtt. E voglio fare una copia. Faccio copio tetto.txtt in tetto2.txtt. E ho realizzato una copia del file nella testa cartella. Immaginiamo un attimo di rispostare questi file in esercizio 2. Allora, il comando copio è stato fatto così. copio tetto.txtt in punto punto slash esercizio 2. E i file saranno stati copiati in esercizio 2. Se invece voglio copiarli in un'altra cartella, per esempio, copio tetto.t in un'altra unità di due punti, all'esercizio 2, potrei realizzare il comando copio tetto.txt di due punti. E ha copiato i due file. Quindi, come vedete, il comando copio prevede la sintaxe per costo del genere con le file per costo di destinazione, file eventualmente da dare un altro nome. Come effettuiamo invece lo spottamento? Allora, lo spottamento innanzitutto, prima di vedere lo spottamento dei file, vediamo il famoso taglio e incolla fatto con il mouse sui file, vediamo che in due punti sono presenti i miei due file. E abbiamo i due file di tetto, del asterisco.dxt. Se abbiamo, cancelliamo solo i file, chiaramente nella D. Vediamo un attimo, se ci torno a dire asterisco.dxt. Utilizzo il file, dice file non trovato, vuol dire che io ho cancellato. A questo punto, torno nella lettera C, e mi trovo sempre nella mia cartella, diciamo, esercizio 1. Adesso, creo un'altra cartella che chiamo md copie e voglio provare a spottare i file txt.dxt in copie. Faccio un move a telic.dxt.dxt, per quanto soggente mi lo metto perché è già corrente, mi trovo già nella cartella dove devo prendere i file, mentre invece la mia nuova cartella, che ho chiamato copie, non è corrente, quindi faccio copie, faccio copie. E i due file sono stati spottati, infatti non ci sono più, ma ti trovano direttamente all'interno della mia cartella copie. Vediamo un attimo, come vedete, eccoli qua i due file. Voglio farne una copia nuova nella cartella precedente da dove li ho cancellati. Come dovrò fare? Farò copie a telic.dxt in .clash e i due file vengono duplicate nella mia cartella precedente e ottengo praticamente, diciamo, i miei file. Se voglio per esempio cambiare il nome a un file, per esempio, posso fare anche move txt.dxt in copie slash ntxt, per dire che è nuovo, .dxt.dxt il file viene contemporaneamente copiato e rinominato. Vedete? E quindi abbiamo visto degli altri comandi molto importanti. Andando avanti, quindi abbiamo visto alcuni comandi copy per questo genere, per questo destinazione, indicando ugualmente anche i file. Qua ci sono altri esempi, con altre cartelle che eventualmente non essere presenti sul vostro sistema. Dopodiché abbiamo visto il comando move che serve per esportare i file, quindi il famoso taglio in collo che io posso fare anche col mouse nella interfaccia grafica del sistema. Il mio esercizio potrebbe essere quello praticamente di vedere il comando cd. Allora, effetto lo esportamento alla cartella superiore, uso il comando cd.move. L'effetto della visualizzazione del percorso corrente, faccio la riga mente cd. Posizione del sistema operativo alla cartella principale radice, cd barra inversa, posizione del sistema operativo nella cartella principale radice di un'unità corrente. E già lo abbiamo visto prima, lo possiamo un attimo rivedere. Ad esempio, se io faccio cd.punto, vado alla cartella superiore, se vado cd.punto, lo visualizzo al percorso corrente, cd backslash, torno alla cartella radice del sistema operativo, per rivederlo posso fare il comando cd.punto. punto. Benissimo. Allora, che altro dire? Allora, innanzitutto l'esplorato risulta l'abbiamo già vista come interfaccia, che si permette di vedere l'insieme delle cartelle di unità di memorizzazione o comprensionalità di rete del mio sistema. Poi, l'esplorato risulta l'abbiamo appena vista, quella che viene chiamata anche la colta file del mio sistema, è caratterizzata da essere organizzata per colonne, e difatti, quando noi lo apriamo, a parte che diciamo è disponibile anche la possibilità di collegarsi a un account OneDrive, che è una cartella remota, io posso, selezionando un elemento di sinistra, visualizzare immediatamente il contenuto dell'elenco di lettre, e quindi effettuare le classiche operazioni sui file, che io ho effettuato dalla linea di comando. Benissimo. A questo punto, l'ultima cosa da vedere, retta per quanto riguarda il file del sistema, utilizzo di una procedura per la connessione a una risorsa di rete, che è abbastanza, diciamo, semplice come procedimento, e che però può essere fatto anche dalla linea di comando, diciamo, voglio darvi una visione alternativa. Allora, immaginiamo di averli collegare un'altra risorsa di rete, adesso io con il comando net asterisco, lash delete, ovviamente cancello la connessione attiva, net use delete, mi chiede di cancellare, vedete la sintassia è questa qui, io rispongo sì, e quindi z a due punti non ci sarà più, giustamente è stato eliminato. A questo punto, se la voglio riconnettere, posso utilizzare net use, il nome del computer sulla rete LAN, deve essere chiaramente indicato, chiaramente, e in mio caso si chiama pc match, il nome della cartella che io devo rendere accessibile a livello di condivisione, ma questo lo deve fare l'amministratore di rete, lo potete fare voi sull'altro computer, e vado a effettuare questo comando. Lui mi chiede il nome utente, io interisco un nome utente, valido, e interisco una password. e il comando è riuscito, quando premiamo z a due punti, digitolo, in questo caso, lui non si è collegato, praticamente, a nessuna unità, devo mettere, chiaramente il nome dell'unità, z a due punti, ecco qui, z a due punti, mi da, chiaramente, tutto l'elenco dei file, che stanno all'interno della mia cartella a remonto, se ho i permetti, posso andare a modificare, a effettuare tutte le modifiche, tra l'altro, la cosa interessante, è che io mi sono collegato, a una cartella, con un altro sistema operativo, che è appunto, il sistema operativo, Linux, di cui parleremo, in un'altra lezione, in Windows 10, c'è il pannello di controllo, chiaramente, che permette di effettuare, diciamo, varie operazioni di manutenzione del sistema, ma c'è anche un'impostazione, il nuovo di Windows 10, ve l'ho giusto messo in visualizzazione, per dirvi che è possibile, effettuare le impostazioni del nostro sistema, anche attraverso il nuovo pannello, di impostazioni di Windows 10, le cartelle sono numerose, ci sono, ovviamente, tutta una serie di funzionalità, per lo schermo, per l'audio, per le notifiche, per esempio, quelle che arrivano, le notifiche push, dalle app che sono installate, sul nostro sistema, che le posso eventualmente, disabilitare, attraverso l'assistente delle notifiche, c'è gestione, c'è tutta la parte, per la gestione, dell'impostazione hardware, degli aggiornamenti del sistema, c'è tutta la parte, sulle reti internet, per l'accesso, diciamo, alle funzionalità di rete, diciamo, tutta la parte, che riguarda le impostazioni internazionali, della localizzazione, della data dell'ora, insomma, sono parecce funzionalità, ulteriori funzionalità, è possibile definire un account, OneDrive, un account locale, sul computer, e questo magari lo vediamo un attimo, impostazioni per il telefono, per la sincronizzazione, con il nostro telefono personale, personalizzazione del desktop, delle icone, del menu, visualizzare le app installate, sul nostro sistema, il gtl, le impostazioni sulla ricerca, sia a livello del computer locale, che sul computer, diciamo, sul web, le impostazioni di Cortana, che lo assistendo, per il riconoscimento vocale, l'impostazione di accessibilità, per l'uso da parte di persone di tab, le impostazioni di private, che sono, appunto, ormai obbligato, gli aggiornamenti, le sicurezze, i budget, le impostazioni, gli aggiornamenti, del nostro sistema operativo. Come l'unica cosa, diciamo, che vi vorrei far vedere, vi vorrei far vedere, come creare un account. Allora, io vado in, qui, digito impostazioni, e allora via più veloce, si apre questa finestra, a questo punto posso selezionare la voce account, e mi dà le informazioni sul mio account, posso cambiare le impostazioni, se voglio installare un nuovo account, chiaramente, devo poter essere amministratori dell'account, altrimenti non posso effettuare nessuna modifica. In questo momento io mi trovo in un utente, diciamo, non amministrativo, e quindi per poter avere accesso, diciamo, alle informazioni di un account, devo chiaramente eseguire queste impostazioni, come, diciamo, amministratore. Allora, per concludere, diciamo, vi ringrazio per l'attenzione, e ci vediamo nella prossima video di più. Per gettire e creare un nuovo account, posso fare, nella barra di circa, pannello di controllo, vado all'icona, account utente, sto utilizzando il pannello di controllo di Windows 7, sulla versione precedente di Windows 8, vado in account utente, vado a gettisci tipo di account, mi legge l'interno della password, dell'amministratore, o il PIN dell'amministratore, io interisco il PIN, la nuova contattualità di Windows 10, e a questo punto posso fare, aggiungi un account on utente, dal questo menu, e si apre, praticamente, la procedura, praticamente, guidata. Mi chiede, innanzitutto, di inserire un account, registrato sul servizio, di outlook.com, di Microsoft, io posso benissimo, scegliere un account locale sul computer, vado avanti, e scelgo la voce, account locale, non account Microsoft, interisco il nome utente, in questo caso, interisco, nome utente studente, metto la password, al mio account, comprimo la password, ovviamente, la password, e il nome utente, dovrebbero essere abbastanza robusti, per rispettare i criteri di sicurezza, ma questa è semplicemente una situazione, vado avanti, e viene aggiunto, praticamente, il mio account studente, dopodiché, account studente, è diventato un account locale, del mio, diciamo, computer, e posso cambiare, tipo di account, e farlo diventare, per esempio, amministratore, che quindi ha contorno a compiere del computer, o lasciarlo al standard, per, limitarlo, nell'installazione di alcuni programmi, nella configurazione, hardware e software, del mio calcolatore, bene, allora signori, che cosa dirvi, con questa, la mia lunghissima video lezione, è terminata, spero che vi sia piaciuta, se vi è piaciuta, mettete un commento, sotto la video lezione, e troverete, anche il link, per poter caricare, il pdf, di questa video lezione, sul mio sito web, con questo ho concluso, grazie, arrivederci.